Giorgio Rocca a Bielmonte da parte dei locali super e quindi ci torno volentieri, sono sempre le stesse persone, hanno qualche anno in più di me come me e poi niente, è bello perché la gente si ricorda ancora di me in modo positivo, ha sopportato con me probabilmente anche la sconfitta olimpica o la caduta olimpica e quindi bene Che ricordo hai della Valanga Azzurra? Ma la Valanga Azzurra, Gustavo Ottoni è stata la mia guida in federazione quando ho iniziato la mia carriera e poi adesso sto frequentando molto Paolo De Chiesa, Piero Gross per lavoro e quindi diciamo che li ricordo, li sto frequentando più adesso e li ricordo con i loro racconti adesso e quindi ho una Valanga Azzurra magari più giovane perché comunque si mantengono giovani e girano per il mondo parlando sulle tv italiane, svizzere eccetera e quindi è bello vedere che comunque la passione rimane, siamo tutti comunque racchiusi in questo mondo che rimane comunque piccolo e siamo tutti amici e questa è la cosa bella